Inizio questa video recensione con una frase Quando accendo una lampada o un forno a microonde alimentati da una centrale a carbone contribuisco all'aumento di una minuscola quantità di gas serra nell'atmosfera Quando lo fate voi è lo stesso E quando lo fanno decine di milioni o miliardi di persone giorno dopo giorno per decenni o secoli il risultato è il riscaldamento globale Questa è una delle frasi che mi hanno colpito del libro di Daniel Goleman, Intelligenza Ecologica Conoscevo Goleman per intelligenza emotiva, che è un concetto che mi piace tantissimo e ho letto anche questo libro di intelligenza ecologica Che cos'è l'intelligenza ecologica? Se l'intelligenza sociale e quella emotiva servono a capire meglio i nostri simili l'intelligenza ecologica serve a capire meglio e provare empatia per tutto ciò che ci circonda Empatia per la vita nella sua totalità Il libro l'ha vissuto come scritto in due divise parti Non è così, però io l'ho vissuto come tale La prima parte mi ha esaltata tantissimo perché finalmente parla della sostenibilità in tutte le sue sfaccettature, in tutta la sua complessità La seconda parte invece mi ha abbastanza intristita perché questo libro è del 2009 e tutte le cose che auspica Goleman non si sono ancora avverate tranne una, poi ve la spiego Una sola frase per far capire quanto può essere complicato effettivamente il calcolo della sostenibilità di un prodotto Per un cittadino di Boston una bottiglia di Bordeaux giunto via mare dalla vigna francese ha un'impronta carbonica più bassa di quella di una bottiglia di Chardonnay dalla California trasportato su un auto articolato Assolutamente controintuitivo, però assolutamente vero, perlomeno dai calcoli che sono stati fatti La sostenibilità è complessa e Goleman quello che sostiene è che abbiamo bisogno di molte ma molte ma molte più informazioni per poter compiere delle scelte veramente sostenibili, di acquisto innanzitutto Basti pensare che per stabilire la sostenibilità di un prodotto bisogna considerare tutti i suoi impatti sulla biosfera, geosfera e sociosfera quindi aria, acqua, mare, terra, animali, umani, piante e anche lavoratori La chiave che propone Goleman per riuscire a risolvere o perlomeno ovviare ai problemi climatici che stiamo affrontando già oggi è di puntare ad una trasparenza radicale, la chiama così che significa che tutte le aziende dovrebbero rendere noti tutti i loro impatti sia positivi che negativi su tutti questi ambiti Questo farebbe sì che i consumatori possano avere le giuste informazioni per fare le giuste scelte veramente motivate, basate su dati e in modo tale da spostare il mercato in maniera sostanziale Purtroppo la seconda parte, quella in cui spiega nel concreto come dovrebbe svilupparsi questa trasparenza radicale è quella che mi ha intristito di più perché considerate che il libro è del 2009 e molti degli esempi che lui fa non esistono più non dà molte speranze L'unica cosa che effettivamente c'è ed è migliorata perlomeno in Europa è la rendicontazione dal punto di vista della intelligenza ecologica chiamiamola così cioè la rendicontazione delle grandi aziende che sarà obbligatoria a breve su effettivamente tutti i loro impatti e non soltanto quello economico Speriamo solo di essere ancora in tempo Speriamo solo di essere ancora in tempo